Bene, bentornati abbiamo iniziato un progetto come abbiamo visto nella lezione precedente ex novo, addirittura da zero avevamo completamente il vuoto e l'abbiamo riempito con qualche elemento abbiamo creato una stanza, abbiamo aggiunto una sfera di riflessione che parleremo più avanti di cosa trattasi abbiamo aggiunto una skylight cioè una luce che ci da l'impressione della luce ambiente abbiamo aggiunto ovviamente naturalmente una skysphere per quanto riguarda la sfera panoramica che va ad identificare un poco l'andamento della nostra giornata abbiamo aggiunto una directional light che va ad identificarci il nostro sole nello spazio abbiamo visto come collegare la skysphere alla luce direzionale per far si che automaticamente vada poi a modificare a seconda della posizione del sole i parametri della skysphere ovviamente i parametri della skysphere che possiamo sempre rettificare all'interno del pannello se seleziono skysphere qua posso andare a modificare tutta una serie di parametri ma io dico sempre che questo è un software talmente ampio che vi consiglio sempre di fare un po' di esercitazione poi per ognuno di questi elementi che io inserisco all'interno della scena ma sostanzialmente possiamo modificare l'altezza del sole che in questo caso è impossibile modificare perchè è legato alla nostra directional light quindi se noi abbiamo nello spazio directional light che emette luce in quella posizione questo non lo possiamo modificare lo potremmo fare qualora non ci fosse questo tipo di relazione con la directional light possiamo modificare la velocità delle nuvole l'opacità delle stesse la brillantezza delle stelle se nel caso di situazione notturna possiamo modificare ovviamente tutta una serie di cose di colori per quanto riguarda la luce zenitale quella l'orizzonte la possibilità ovviamente di visualizzare o meno all'interno del mondo la nostra sfera e alcuni altri parametri ma questi sono diciamo così quelli più fondamentali non ci soffermeremo come detto su questo tipo di parametri perchè volendo dare una spiegazione ad ogni parametro beh questo corso finirebbe ecco ci metteremo un altro anno a completarlo ma noi non vogliamo questo quindi io voglio assolutamente che chi segua questo corso poi sia incuriosito e magari si va a vedere un poco le altre funzioni per quanto riguarda le sfere di riflessione ne parleremo abbondantemente cioè nel senso poi non è che ci sia poi tanto da dire basta capirne il funzionamento abbiamo detto che è possibile aggiungere dei portali per quanto riguarda le nostre aperture abbiamo detto che è possibile circoscrivere il calcolo dell'illuminazione all'interno di un volume in modo che all'interno del quale la illuminazione sia più diciamo così puntuale e precisa mentre possiamo stabilire che al di fuori di questa diciamo così di questo volume il calcolo possa essere anche magari un po' più approssimativo ma perché sono elementi che noi non andremo mai a raggiungere quindi non ci interessa l'effettiva diciamo qualità tra virgolette definiamola così detto questo devo fare una parentesi per quanto riguarda la grandezza delle mappe adesso voglio che però mi seguite un poco perché è un argomento di per sé semplice però è molto ma molto importante ad esempio supponiamo di inserire all'interno della nostra scena una nuova come facciamo sempre una nuova mesh statica anzi se non erro in qualche parte in qualche lezione deve esserci ecco inseriamo questo cubo ad esempio adesso non ne conosco le dimensioni vediamo che cosa succede facciamo che questo cubo abbia un fattore di scala quindi facciamo della metà 05 05 05 anche in altezza portiamolo magari disattiviamo anzi no attiviamolo ma portiamolo a 10 e saliamo il nostro cubo magari in questa posizione potremmo ancora un poco magari 5 potremmo farcela ho modificato quello relativo alla rotazione vabbè ok supponiamo che sia un cubo di questo tipo su questo cubo dobbiamo imparare a leggere la dimensione della mappa ma supponiamo di metterlo in una posizione dove vada poi anche ad proiettare qualche tipo di ombra magari in questa posizione dobbiamo imparare a leggere la grandezza della mappa associata agli elementi presenti nella scena in questo caso sm cube la grandezza della light map la possiamo leggere sia all'interno dell'editor statico e quindi in questa posizione vedete che c'è una light map resolution di 512 che può essere sufficiente assolutamente per la nostra geometria in questo caso e poi vi spiego il perché ma adesso vedremo meglio in dettaglio la cosa o possiamo leggerla scorrendo questo parametro a livello di sovrapposizione di overriding vedete che è in grigetto e qua possiamo leggere la grandezza della mappa associata questo valore io lo posso modificare sia all'interno qui e quindi modificandolo in modo definitivo o comunque posso andare per il momento andarlo a sovrapporre e magari mettere una mappa vedete che lui parte da una mappa di 64 come mappa minima fino ad arrivare anche a 8k ma supponiamo che la nostra mappa lasciamo per il cubo la nostra mappa di base vediamo che cosa succede mettiamoli in una posizione dove è possibile vedere effettivamente la luce proiettata magari poi la andremo a spostare andiamo a ricostruirne l'illuminazione faccio una breve premessa ovviamente come succede per le immagini di tipo raster dei comuni jpeg quando noi andiamo ad applicare una tessitura una mappa su un nostro oggetto ovviamente se il nostro oggetto è ampio e applichiamo una mappa piccola sopra di esso il risultato sarà una sgranatura evidente la stessa cosa succede per la mappa di illuminazione quindi dobbiamo scegliere la giusta mappa di illuminazione da dover associare al nostro oggetto presente all'interno della nostra scena se non facciamo questo otterremo delle ombre approssimative zigrinate sfocate insomma non otterremo l'effetto desiderato e questo è un altro aspetto importantissimo per quanto riguarda Unreal Engine attendiamo che il processo termini diciamo che in questo caso non è molto evidente perchè effettivamente l'oggetto è molto piccolo però per renderci conto se su questo oggetto è effettivamente stata applicata una giusta size basta regarsi nello specchietto qui scusate andare in optimization view mode e cliccare su light map density vedete che in realtà anche il nostro ambiente e ora vi spiego questo specchietto che cosa significa sostanzialmente supponete di avere uno uno specchietto che varia tra il blu dove sono rappresentate tutte le mappe con scarsa densità al rosso dove sono rappresentate le mappe con massima densità e nel mezzo ci troviamo questo colore simile al verde allora adesso se io selezionassi questo cubo e lo porto ad esempio a 512 vedete che mi diventa rosso vuol dire che questa size questa mappa questa dimensione questa grandezza della mappa associata al mio cubo può andare bene anzi sicuramente va bene 256 vedete che già era sufficiente 256 128 andiamo sul verdino quindi se vogliamo la massima resa dobbiamo spostare a 256 già per me va bene se clicchiamo invece su tutto il nostro oggetto e qui avevamo dato vedete qua è possibile leggere la nostra size e vogliamo il massimo da questo tipo di geometria di static mesh vado a sovrapporre vedete se vado a sovrapporre lui automaticamente da 64 vedete che è una geometria che sostanzialmente fa pena se ricostruiamo adesso le luci magari possiamo renderci conto che effettivamente proviamo a fare prima questo esempio e quindi a ricostruire le nostre luci per dare una visione diciamo più esaustiva dell'argomento ma adesso dovrebbe impiegarci veramente poco perché abbiamo ridotto drasticamente la dimensione della mappa della nostra della nostra room della nostra geometria anche se abbiamo incrementato un po' quello del cubo presente all'interno ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo ancora in lontananza magari potremmo anche andarli ad eliminare perché ci serviva solo per spiegare un poco la light mass importance volume ecco qua perché adesso guardate come è la mappa rappresentata intorno a questi muri obrobriosa direi vedete? è sbozzata è zigrinata e questo non va bene invece ritornando al nostro specchietto se andiamo in optimization view mode e questo blu lo portiamo più verso il rosso cioè abbiamo detto che 1024 non era ancora sufficiente per andare sul rosso che cosa succede? che io ho costruito la stanza come se fosse un unico oggetto ma in realtà è sempre consigliabile costruire un ambiente a pezzi in modo da non esagerare molto con la grandezza della mappa in questo caso se portassi a 2048 vedete che io sto sul rosso in questo caso starei in una situazione diciamo così perfetta visto che avevamo utilizzato anche le due room distanti per il nostro progetto queste due le possiamo andare anche a eliminare perché ci serviva come esempio per capire perché a volte il software può darci dei messaggi, dei problemi delle avvertenze chiamatele come volete adesso proviamo a ricostruire la luce è perché in questo caso ci troviamo effettivamente nella situazione di massima resa per quanto riguarda la mappa è inutile creare delle mappe ancora più grandi per questo ambiente perché la resa si fermerebbe comunque anche se abbiamo la possibilità di incrementare come detto prima alcuni parametri qui abbiamo la possibilità sicuramente di metterci a livello di a livello di filtro della qualità potremmo metterci anche in questo caso a production per adesso non ci interessa diciamo che il filtro medium in questa fase per quello che interessa a noi per non allungare poi i tempi ci può andare più che bene effettuiamo la ricostruzione ovviamente adesso impiegherà un bel po' di tempo in più abbiamo portato una mappa che era di 1024 l'abbiamo sostanzialmente raddoppiato ovviamente non saranno tempi biblici ma dobbiamo dare la possibilità al software di dare la giusta resa però come ripeto dobbiamo essere bravi noi con la nostra esperienza a trovare il giusto compromesso tra la grandezza della mappa e i tempi di risposta della luce per evitare effettivamente di trovarci all'interno di progetti più o meno complessi che però diciamo così si possono restituire dei tempi di restituzione a dir poco biblici perché anche in questo caso lui sta ovviamente mettendoci un po' di tempo ma voglio ripetere la considerazione fatta prima io consiglio sempre anche quando si va poi ad importare modelli di terze parti attraverso l'uso di Datasmith o comunque attraverso l'uso normale cioè tra virgolette quello classico che poi ce ne occuperemo affronteremo un po' entrambi i metodi anche se poi utilizzeremo per il progetto finale vedete che adesso sta quasi per terminare utilizzeremo quello attraverso la real studio quindi di Datasmith è giusto ovviamente sapere qual è la giusta size la giusta mappa ad applicare ai nostri oggetti e abbiamo visto che in modo semplice possiamo dire così è possibile visualizzare le mappe attraverso quello specchietto quello specchietto attraverso quel tipo di grafico dove i blu stanno ad indicare delle mappe cattive e i rossi sono le mappe massime dove nel mezzo e molte volte il segreto è proprio nel mezzo anche andare verso quel colore tipo arancio che si avvicina al rosso quel verdino può andare ancora sostanzialmente bene per alcuni progetti ma bisogna evitare quei verdini che vanno verso quel colore che dal verde va verso il blu e bisogna evitare il blu ovviamente perché la mappa è totalmente scarsa ovviamente come vi dicevo in partenza i tempi di ricostruzione se vogliamo una mappa di illuminazione tra virgolette perfetta aumentano perché abbiamo aumentato semplicemente la grandezza della mappa che si vuole realizzare beh non ci resta adesso che attendere e aspettare che il software termini la fase adesso ha terminato non restituisce alcun tipo di errore e abbiamo la nostra mappa di illuminazione che in questo caso potete vedere è sostanzialmente perfetta beh adesso vi lascio e vi do appuntamento alla prossima lezione per la prossima per la prossima per la prossima